Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, passaggio di consegne tra agosto e settembre all'insegna del maltempo intenso sull'Italia, con una perturbazione di origine atlantica che nei prossimi giorni porterà sulla nostra penisola rovesce temporali come anche aria più fresca. In particolare le prime piogge collegate a questo peggioramento faranno la loro comparsa sull'Italia già domani, giovedì 31 agosto, con rovesce locali temporali a partire dal nord-ovest. Qualche acquazzone non si esclude neanche sugli appennini centrali nei loro pometidiane. In serata e poi in nottata i fenomeni si estenderanno dai settori nord-occidentali verso est, con temporali anche intensi specie sulle Alpi e sulle zone prealpine, mentre i rovesce arriveranno a bagnare anche il versante tirrenico centrale. Venerdì 1 settembre il maltempo si farà ancora più intenso, con rovesce temporali soprattutto al centro-nord. I fenomeni più forti sono attesi al mattino sulle regioni tirreniche centrali come sul Frioli, mentre al pomeriggio temporali localmente a carattere di nubifragio potranno interessare soprattutto le Alpi, le prealpi e i settori pedemontani. La perturbazione continuerà a insistere sull'Italia poi anche nel fine settimana, con il maltempo che arriverà a lambire anche le regioni meridionali. Continuate allora a seguire tutti i prossimi aggiornamenti per rimanere sempre informati sull'evoluzione di tale perturbazione che porterà maltempo e aria fresca su tutta Italia per l'inizio di settembre. Un saluto da parte del Centro Metro Italiano. Grazie a tutti.